da genova san fiorentina dall'ho niente da rilevanto non si gioca ma non stanno facendo ma non puoi dire niente sono passati 33 minuti ma non ha fatto niente ma pensa alla tua che sei serato dai 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 credito non ho fatto niente non c'è stato un tiro 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 non c'è stato niente è una massa ma niente ma adesso c'è stato un tiro ma che tiro ma pensagli a fare il cuore ma l'angolo lo battono anche a casa tua un'altra ma finché senti la musica nell'auricolare da noi è difficile che tu ti possa concentrare a te che lì da calcio d'angolo